Anche lei ha fatto un lungo viaggio, viene da Savona Rita Vitaloni. Ancora una volta devo ringraziarvi, sono felicissima di essere venuta qui a Mesagne, è una cornice meravigliosa. Dico grazie anche a tutti gli artisti e a tutto quello che ci avete anche insegnato questa sera. E sono stati gli artisti e le personalità che sono intervenuti sul palco ad insegnarci qualcosa. E anche lei con la sua opera è stata presente e comunque l'è il suo impegno anche nel sociale che conosciamo perfettamente. Quindi prego. Grazie, posso dirvi solo grazie. Grazie, grazie anche a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.